Buonasera, siamo qui con il dottor Franco Chiaramonte, che cos'è la Garanzia Giovani? La Garanzia Giovani è un programma finanziato dall'Unione Europea, realizzato da tutti gli stati membri che hanno condizioni di disoccupazione particolarmente gravi nella fascia dei giovani. È destinato ai giovani che hanno tra 15 e 30 anni non compiuti. Il programma in Italia si realizza attraverso i fondi candidati dall'Unione Europea e l'iniziativa delle regioni, quindi ogni regione con delle regole condivise a livello nazionale attua questo programma. Che cos'è la Garanzia Giovani? È un'iniziativa che ha come finalità portare i giovani ad essere più vicini al lavoro, offrire delle opportunità di lavoro, di tirocinio e di formazione finalizzata al lavoro. È un'iniziativa nazionale questa? Sì, è un'iniziativa nazionale, è un'iniziativa europea innanzitutto, nazionale. Ogni regione la realizza con regoli simili in tutta Italia, ma ognuna con delle priorità. Per esempio, nel caso della regione Piemonte, noi abbiamo avviato la Garanzia Giovani con una serie di scelte per tutte nostre. Cosa bisogna fare per partecipare alla Garanzia Giovani? Iscriversi al portale nazionale Garanzia Giovani, iscriversi in alternativa ai portali regionali. In questo modo si sarà destinatari di offerte di lavoro, di tirocinio o di formazione, ma bisogna iscriversi, bisogna essere attivi, presentarsi alla Garanzia Giovani. Ok, ringraziamo il dottor Franco Chiaramonte.